Gira, gira... Pronto! Cambio mano, signori! Accidenti! Pasquale Marolla è inciampato! Se senza clienti, senza dignità, dormi in un furgone. Non dormo più nel furgone. Ma non è colpa sua se la zia Marta gli ha preso tutto. Ma perché non ti apri un'altra scuola per cani? Pasquale Marolla, istruttore cinofilo. Che dici? Ciao mamme, vi spediamo tutti qui. Biscottini, biscottini, biscottini! Ci hanno scambiato per l'addestratore di bambini. Papà, ma sono i piedi? Come? Sono i biologici. I cani sono un po' come i bambini, no? Perché i bambini non possono essere come i cani? Quindi adesso tutti a lavarsi le mani! Seguitemi! No, 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 no! Allora, bambini! Mamma per andare al mercato percorre tre strade. Secondo me, caro Leo, tu sei proprio un bassotto. Come lo sai? Sono un addestratore. Il migliore. Io vorrei tanto un cane. Che carino! E' simpatitissimo! Chi ha preso il mio cane? Mi piace! Oh! Guardami! Ehi! Se vinci la guerra potrà stare con te. Ci mancano un cane. Cosa chiede? Un branco. Grazie. Se vinco io, mi riprendo Giacchino. E se vinco io? Giacchino!